Appuntamento con l'Atletica sabato e domenica allo Stadio d'Atletica di Arezzo. Quanti atleti sono previsti? Sono previsti circa 1.550 atleti gara, che vuol dire circa 850 partecipanti, qualcuno fa due gare, quindi intorno ai 1.500 partecipanti, in rappresentanza di società di tutta la Toscana. Ricordiamo la manifestazione e soprattutto il regolamento, perché si tratta della prima prova questa. Sì, è la prima prova del campionato di società assoluto 2016, in cui le società, tra questa prova e la seconda, che si svolgerà a Sesto Fiorentino, si guadagnano un punteggio, la cui somma sarà buona per accedere alle varie finali nazionali. L'Alga Etrusca è al lavoro con tutto il suo staff per l'organizzazione. Quali sono le discipline che riguardano l'Atletica, che potranno vedere gli aretini venendo allo Stadio d'Atletica? Tutte, praticamente in questa fase ci sono tutte, tutte le corse, tutti i lanci, e tutti i salti, marcia compresa, in quanto appunto essendo campionato di società bisogna ricoprire tutte le gare del panorama dell'Atletica. Mancano solo i metri 10.000, ci si ferma i 5.000, però ci sono tutti, quindi velocità, ostacoli, salti in estensione, salti in elevazione, tutti i lanci e varie prove di fondo e mezzo fondo. Possiamo ricordare gli orari sia per sabato che per domenica? Per sabato iniziamo alle 14 con il lancio del martello, che ha problematiche di sicurezza e quindi viene fatto a inizio manifestazione, il grosso della manifestazione inizia alle ore 15 e finirà verso le 20.30. Stessa cosa per la domenica.